E che attività era? Io ho un negozio esperto di Cialantini e conosciuto da tutti. Io ho cominciato come riparatore nel 1953, eravamo 12 tecnici tv a Roma e lavoravo da Radio Vittoria a Piazza a Via Angelo Brunetti, 1000 lire al giorno. Quanto? 1000 lire al giorno, senza essere segnati. Poi loro consegnavano i televisori, insomma a prima porta a Villa Cordiani, a Centro Celece, quando chiudeva il laboratorio io con la mia moto andavo a sistemare i televisori e farli funzionare e ritornavo a casa alle 11. Quindi ha visto anche trasformare un lavoro? Sì sì, evidentemente. Ho fatto io i 5 anni a San Giuseppe e al Mamiani, però una volta quando negli anni 45, 46, 47 io andavo a Piazza d'Ottavia fino a San Giuseppe, via Brino dentro dell'est e via della Doria, a piedi. Non c'erano altri mezzi? No, c'era il mezzo del 35 che partiva, poi diventato il 27, c'era il 35 barato che faccia la cavolina a Belsito, il 35 nero che scendeva qua e c'era uno scambio vicino a Nazario Sauro, c'era la linea sola e c'erano gli scambi, però i soldi non c'erano quindi andava a piedi.